La prima neve dell'anno ha già imbiancato alcuni angoli della retina, ovviamente in alta quota, come la coltre bianca che ha avvolto magicamente la cima del Prato Magno. Ma altri candidi fiocchi potrebbero cadere nei prossimi giorni anche ad altitudini molto più basse. Certamente la colonina di Mercurio nei prossimi giorni rimarrà ben vicina allo zero. Sono previste infatti temperature in picchiata che faranno scattare l'allarme ghiaccio sulle strade a retine. Arrivano così le raccomandazioni del servizio di viabilità della provincia che in considerazione delle temperature molto basse previste per i prossimi giorni raccomanda la massima prudenza agli automobilisti. Il personale del servizio sarà impegnato nell'opera di spargimento di sale sulle strade provinciali, il cui effetto però quando le temperature si abbassano come in questi giorni è attenuato. Il consiglio è quindi quello di guidare con grande cautela soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore della giornata. Intanto il centro funzionale regionale ha emesso il bollettino di valutazione delle criticità in cui stabilisce dalla mezzanotte di giovedì 5 gennaio codice giallo per rischio vento in tutta la Toscana. L'allerta terminerà nella mezzanotte di giovedì 6 gennaio.